Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Allora oggi volevo parlare con voi della difficoltà di manifestare o di creare ciò che volete che qualcuno ha se avete questa difficoltà e vi dico che ci sono più o meno tre ragioni importanti per cui le cose non si manifestano e c'è la possibilità di risolvere naturalmente in modo da poter creare ciò che volete. Allora prima di tutto bisogna capire che cosa significa si sta manifestando. Questo significa o possiamo anche dire che fondamentalmente significa che stai permettendo a qualcosa che è nascosto ai cinque sensi di essere rivellato. Ogni volta che noi manifestiamo qualcosa in realtà ciò che stiamo facendo è questo. Ci stiamo collegando con la frequenza di quella situazione o di quel risultato in modo che possiamo vederlo e farne esperienza. Ok? Quindi fare esperienza di ciò che è già qui, già là fuori qui per noi, ciò che è già fatto, ciò che esiste già nel reame delle possibilità, probabilità per così dire. le cose stanno così. Tutto ciò che desideriamo è già con noi, lo abbiamo già perché tutto è uno, è già con noi perché tutto è connesso, tutto è uno. Ok? Solo che non siamo sintonizzati sulla frequenza per poterne fare esperienza. È come quando ascolti una stazione radio per esempio ci sono altri cento o altri mille o altri duemila ma tu non lo sai finché non vai a cercare quella determinata frequenza, quel determinato canale per sentire quello che dici. il motivo per cui non lo vediamo è che il nostro cervello, come dire, ne ha solo cinque sensi con cui percepisce e di conseguenza non possiamo vedere l'intero spettro della realtà. quindi quando manifesti qualcosa si tratta solo di creare la scena invisibile e farla diventare visibile. Ok? quindi tutto quello che vuoi è lì con te. In realtà tutti i nostri desideri e obiettivi e sogni li abbiamo già ora, è già successo, è già qui. Quindi bisogna tenere a mente questo mentre esaminiamo queste tre cose di cui vi ho parlato prima perché è molto importante tenere a mente tutto ciò. La cosa veramente la prima cosa molto importante da ricordare è che in realtà non crei o manifesti cose. In realtà quello che dicevamo a poc'anzi quello che stai facendo è ti stai effettivamente sintonizzando in modo da poterti collegare con la frequenza per ricevere e vedere e sperimentare ciò che hai già. Ok? Andiamo a vedere la prima ragione o il motivo per cui le cose non si manifestano. E quindi parliamo delle leggi di cui abbiamo parlato prima. Il motivo per cui non si manifestano è perché noi siamo attaccati al risultato, cioè vogliamo vedere il risultato subito, così. Ciò che facciamo in questo caso facciamo resistenza perché cerchiamo un segno, cerchiamo una prova, guardiamo, vediamo, dubitiamo. Come vi ho fatto vedere in qualche video io voglio questo o quest'altro e quindi dammelo adesso perché adesso ho bisogno. Ma deve essere così, deve essere così, insomma in quel giorno e così di questo passo. Quindi noi cosa facciamo con questo? Gli stiamo dicendo all'universo non ce l'ho, non lo vedo, non ci credo e quando me lo porti? Me lo porti come dico io, quando dico io e nella forma che dico io. Come dicevo siamo troppo attaccati al risultato perché vogliamo vedere per credere, vogliamo le cose per esempio eri, diventiamo come dire appiccicosi il che crea resistenza, crea ansia, crea una vibrazione bassa di mancanza. E questa vibrazione spingerà il dubbio e l'ego spingerà via la frequenza per creare la scena invisibile e farla diventare visibile, la spingerà fuori da te. Fondamentalmente è questo che succede e questo è dovuto al nostro ego, alla nostra mente cosciente. Il nostro ego ama la certezza come vi ho già detto e ama essere in carica, ama essere il capo, ama essere con lui che dirige, ama essere al centro dell'attenzione. Adora capire cosa sta succedendo perché non funziona e come mai le piace sempre mostrarti lo scenario peggiore. E questo perché? Perché sta cercando di elaborare le informazioni. Quindi per me il mio modo di risolvere il problema è che devi rilassarti. Lascia andare perché non puoi fare nulla. Lascia andare, fai spazio, permetti alle cose che arrivino da te. Conoscendo la legge di cui parlavamo prima e cioè che tutto è già qui ora, ok? E tutto è già tuo, ok? Ti metti in uno stato in cui senti di meritarlo, ok? E non ti interessa come verrà e quando verrà. Se pratichi questi insegnamenti, inizierai a cambiare la frequenza per manifestare. Allora, la seconda ragione per cui le cose non si manifestano come quando vuoi tu, questo è interessante e credo che molte persone non lo sappiano, è questo. È quello di smettere di cercare risultati, ok? E cioè non cercare le prove perché come dicevo prima, quando cerchiamo la prova o cerchiamo il risultato, quello che diciamo all'universo con questo atteggiamento mentale, quello che diciamo all'universo, quello che facciamo in pratica è accettiamo il fatto che non ce l'abbiamo. Che non abbiamo quello che vogliamo. Perché non pensi un attimo se avessi già quello che voglio? Quindi se io ho già quello che voglio, non c'è bisogno di cercare le prove e risultati. Quindi non cerco prove perché non ne ho bisogno di prove. Sono certo che arriverà, ok? Sono certissima che arriverà. Lo dico perché se continuiamo a cercare segno, evidenza o quello che vuoi tu, che stai facendo? Non stai facendo altro che cosa? Che credere di non averle. E con la disperazione lo stai respingendo via. Perché quello che stai dicendo in poche parole non è qui. Non è qui. Io ho bisogno adesso e non è qui. Devi ricordarti che tutto è già qui, ma è solo su una diversa frequenza. E come i canali delle tv. Tu guardi solo uno in quel momento, ma in questo istante ce ne sono mille, centinaia e così via, ok? Ora, se tu non vedi un programma su mille, su un'altra frequenza, non vuol dire che non c'è ora, adesso. Vuol dire che tu non lo stai guardando. Tu stai guardando un'altra cosa. Quello che sto dicendo è che quel programma c'è già, adesso, qui con te. Devi solo darle il tempo al tuo cervello di andare su quella frequenza a elaborare i dati. Per fare cosa? Per fare l'esperienza di qui c'è già, ok? Perché l'esperienza di ciò è già tua. Ed è molto importante capire questo processo. Quello che devi sapere è che questo, come dicevo prima, è questo. Solo perché tu non lo vedi non vuol dire che non esiste. Devi capire questo, ok? La mia mente non può capire perché vede solo una piccolissima frazione. Pensate che il nostro cervello processa solo l'1% di quello che è lo spettro visibile della realtà. Ma ha la sfrontatezza di farci credere che sa tutto e capisce tutto. Ecco perché io devo avere fede e credere, ok? Perché non cercando le prove aspetto i risultati. Ed è quello che vogliamo tutti in fin dei conti. Quello che dobbiamo fare è guardare i risultati finali senza preoccuparci di cercare i segni. Ok? Visualizzi già come se fosse già tuo. Perché tutto questo si prenderà di se stesso. Tutto questo processo si prenderà cura di se stesso. L'universo ti porterà ciò che chiedi con la visualizzazione, con l'immaginazione. Ciò che credi che sia già tuo. Perché dice ok, è una cosa che abbiamo già. Quello che c'è da fare una volta che ti sintonizzi su questa frequenza è la mantieni costante quella frequenza. Quella frequenza con la ripetizione, con la concentrazione diventi ottimista, diventi positivo. Quindi cosa fai? Non ti distrai con quelle cose negative, insomma con quei dubbi che l'ego mette di mezzo. Solo allora incontrerai quella frequenza. È così che riceverai ciò che vuoi attraverso il tuo subconscio. E su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. La terza cosa che non riesci a manifestare è che vivi in una mentalità di scarsità, di mancanza. Tutto quello che vedi nell'ambiente intorno a te, che non c'è abbastanza. Ok? Che è limitato. Continui a pensare che non c'è abbastanza e continui a ripetere che non vedi. E continui a cercare come può succedere. Ok? Non ne ho abbastanza. Come sarà? E questa mentalità di scarsità e di mancanza abbasserà la tua e la mia vibrazione in quel caso. È come se il tuo obiettivo fosse al diecimo piano e tu sei qui che ti preoccupi al primo piano, per esempio, o a pian terreno. e scendi continuamente. Per quello che la mente conscia non capisce che noi viviamo in un infinito, in un universo infinito. E se l'universo è infinito vuol dire che l'abbondanza è illimitata. ricorda la prima legge e cioè tu hai già tutto quello che desideri. Ed ecco perché non può essere e non può stare, non può stare in uno stato di scarsità. Perché la mancanza è un'illusione. È qualcosa che viene creato attraverso la programmazione del nostro conscio. e poi va al nostro subconscio. Anche perché la mancanza cosa fa? Ci porta a tendere ad accontentarci molto. Tendiamo a non sognare alla grande. Se sogni, che ne so io, di ottenere semplicemente quello che vuoi perché ti serve solo per vivere e inizi a sentire che non hai abbastanza, se la tua autostima è bassa. Se senti uno di queste cose sei in uno stato di scarsità e quando esci da questo stato di mancanza cambierà la tua vibrazione in uno stato di abbondanza a cui dobbiamo dare la nostra attenzione. E quindi dobbiamo stare attenti perché la mente è furba. Perché possiamo essere in questo stato e non saperlo. Perché è così normale intorno a noi. Ma in realtà si abbassa e rallenta la tua capacità di portare in manifestazione ciò che desideri. dobbiamo capire che sono due diverse energie. Quella della scarsità e quella dell'abbondanza. C'è un'infinità di possibilità ora. Ok? Ma se stai pensando l'opposto quello crea resistenza. è molto importante capire che voi non siete la vostra mente. Questo è semplicemente un altro strumento che l'ego usa per pensare, ragionare e pianificare. Quando dite io vado, dite al corpo dove andare. Quando dite io penso, dite alla mente cosa pensare. Quando arriverete alla realizzazione della vera natura dell'io, in questo modo, godrete di un senso di potere che nient'altro può dare. Perché saprete che cosa siete, chi siete, cosa volete e come ottenerlo. Come abbiamo sempre detto, il pensiero è energia, l'energia è il potere. Ed ecco perché tutte le religioni, le scienze e le filosofie che il mondo ha conosciuto finora si sono basate sulla manifestazione di questa energia invece che sull'energia stessa. Che il mondo si è limitato agli effetti mentre le cause sono state ignorate o fraintese. Per questo abbiamo Dio e il diavolo nella religione, il positivo e il negativo nella scienza, il bene e il male nella filosofia. Quello che ho capito è che chi ha rafforzato e purificato il suo pensiero non ha bisogno di preoccuparsi dei microbi. E chi è arrivato a comprendere la legge dell'abbondanza andrà subito alla fonte dell'approvvigionamento. Questo perché l'individuo è una parte dell'universale, del tutto. Una parte non può inimicarsi nessun'altra parte. Ma al contrario, il benessere di ogni parte dipende dal riconoscimento degli interessi del tutto. Io oggi vi dico che una delle più forti affermazioni che potete fare, che potete usare per rafforzare la volontà e realizzare il tuo potere è questa affermazione. Posso essere ciò che voglio essere. È semplicissima. Come vi ho già detto, una delle cose più scioccanti per me è stata quella di quando ho scoperto che il mondo è dentro di me. Perché non lo sapevo. Ora lo so. Ho sempre pensato che il mio mondo fosse questo. Il mondo con cui sto parlando in questo momento, con voi in questo istante, fosse fuori. Quando mi alzo ogni mattino e guardo fuori, pensavo fosse quella la causa. Ma poi ho scoperto qualcosa di molto profondo. Ho scoperto che è letteralmente impossibile, secondo la teoria quantistica, che il mondo sia fuori di me. Non può essere fuori di me. È impossibile. Ecco perché questo mi ha scioccato quando ho scoperto che il mondo è dentro di me. Che si rifletteva fuori, all'esterno, attraverso i miei occhi. Questo è stato un enorme cambio di percezione. Ho pensato, perché nessuno ci dice chiaramente che noi siamo i creatori della nostra esperienza. I co-creatori di quello che vedo. Era basato sulle mie convinzioni, i miei pensieri e il mio programma nel mio subconscio. La prima volta non ho creduto perché non aveva senso per me. Ma poi, più cercavo di non credere, più mi dava la prova che era vero. La scienza, tutto. Che c'era qualcosa di profondo. Quando qualcosa succede nella tua vita, quando scopri qualcosa di così profondo, che tu non vuoi, come dire, che sia vero. Perché se fosse vero ti rendi conto che tutto quello che stavi facendo finora, fino ad allora, era sbagliato. E quindi la mia vita ha cambiato da zero a mille. Perché io mi aspetto solo il meglio. Ok, ora quello che penso è che tutto quello che succede, succede per il mio beneficio. Tutto quello che facciamo, lo facciamo per le emozioni che viviamo. Bisogna credere che la tua vita sarà così come tu la vuoi. Devi lasciare stare il fatto di come arriverà da noi i soldi o quello che desideri. Ti devi aspettare che tutto quello che pensi di più, arriverà senz'altro da te. Tutto è qui per te. Come evento da essere sperimentato. Non puoi vedere a occhio nudo, ma è così. Viene dalla quinta dimensione alla terza dimensione. Devi avere fede, credere, avere pazienza, aspettarti che arriva e non devi andare a guardare, a cercare le cose. Noi prendiamo troppo tutto sul personale e siamo troppo seri perché tutto è un gioco. Ma devi capire come giocare. Prima devi sapere quello che vuoi o scrivere su un quaderno tipo Ho deciso ciò che voglio e questo ciò che voglio. Dopo devi ripetere continuamente lo stesso pensiero. Dovete anche sapere che molti non giocano per vincere, giocano per non perdere. Devi decidere e lasciare che l'universo ti porti tutto ciò che desideri. Devi ripetere ciò che vuoi veramente. Ok? Fare questo processo della ripetizione. Un'altra cosa che dovete capire è di non cercare i risultati di quello che stai cercando di manifestare. Perché quando cerchi il risultato per la mente la prenderà, come dire, sul serio. Quello che devi fare è aspettarti che i risultati ti arriveranno. Come e quando e tempo su. Devi capire che è molto facile. Decidi quello che desideri e lascialo arrivare aspettandoti che arriva. Perché è già qui, tu, nella superposizione. Quindi abbiamo detto prima decidi quello che vuoi. Secondo aspettati che arriva. E terzo ripeti la stessa cosa, lo stesso processo. Perché un pensiero ripetuto continuamente diventa un credo. La tua immaginazione è così potente che non hai nemmeno idea. Perché tutto quello che c'è intorno a noi, che stiamo guardando in questo istante, è stato immaginato nella mente di qualcuno. L'immaginazione è una cosa meravigliosa. Metti un pensiero in un'immagine ed è quello che ti arriverà. E dopo ripeti il processo. Ripeti il tuo procedimento continuamente. Questo forma un credo. E quando tu credi, il tuo credo diventa cosa? Carne. E cioè forma. Il credo è quello che è vero per te. E tutto quello che è vero per te, per il tuo subconscio, è una legge. Un'altra cosa che dovete fare è questo. Dovete essere un po' delusi. Nel senso che devi sapere che tutto è un gioco. Che non è reale. È un'illusione. Ecco quello che è. Ricordatevi anche che nulla è più grande di voi. Nulla è più grande di te. Tutto è facile per te. Devi capire che sei tu. Tu sei spirito eterno. Devi capire questo. Tutto a livello subconscio è, come dire, è connesso, è entangled. E cioè è la stessa cosa di te. Come può essere meno di te? Ecco quello che ci ferma è il credere che non sia possibile. Un'altra cosa che devi sapere è che l'universo non pensa. È come uno specchio. Riflette indietro ciò che tu pensi. Il mondo fisico che tu e io vediamo può essere creato soltanto dalla mente. Non c'è il mondo fisico. È una proiezione del mondo mentale. Il mondo è letteralmente dentro di noi. Tutto quello che vedi dentro lo vedi riflesso fuori. Se tu continui a vedere nella tua mente solo cose terribili, solo quelle vedrai davanti agli occhi. La causa di tutto è perché dentro di noi c'è un programma. Quindi dobbiamo cambiare il programma. Ok? E per cambiare il programma possiamo usare l'ipnosi, le affermazioni e i messaggi subliminali. Le cose si manifestano per noi quando diventa normale, quando diventa familiare per te. Se riesci a fare sì che il tuo grande sogno sia normale e diventa facile, allora è facilissimo. Allora io mi fermo qui e vi auguro una bellissima giornata. Grazie della vostra attenzione. Grazie mille e alla prossima volta. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.